Il benzinaio stacchio, gioiellieri e zancan chiedono 100.000 euro di danni al complice di Cassol. Bassano celebra la festa della liberazione in programma alla messa, la deposizione delle corone e le orazioni in comune. Novità in vista per il restauro dell'ex macello, l'area in riva al Brenta, pronta ad ospitare un centro culturale. Il comune di Cittadella stanzia 30.000 euro per migliorare la sicurezza e la qualità di vita dei cittadini. L'agricoltura per rilanciare il territorio, accanto alla ciliegia marossicana, punta sulle olive e sui piccoli frutti. Segno più per il turismo musolente, nell'ultimo anno le visite sono cresciute dell'85% rispetto al 2014. Giovani ciceroni crescono, premiati in comune gli studenti protagonisti del giornata di primavera FAI. Buonasera a tutti voi telespettatori, in apertura di telegiornale questa sera ci occupiamo del caso Stacchio. Il benzinaio è pronto a chiedere i danni ai banditi che hanno assaltato la gioielleria di Nanto. La procura di Vicenza chiede l'archiviazione per Graziano Stacchio e il benzinaio assieme al gioielliere Zancana è pronto a presentare il conto a Doriano Derlesi, giostraio veneziano di 51 anni, l'unico per ora in carcere, tra i complici di Albano Cassol, il nomade trevigiano ucciso da una fucilata durante l'assalto alla gioielleria di Nanto. 100.000 euro a testa, quanto intendono chiedere Stacchio e Zancan. Lo facciamo per una questione di principio, non certo per guadagnarci, commenta il gioielliere, ma non possiamo nascondere, continua, che questi 15 mesi sono stati una gogna. Dovessero ottenere il risarcimento, fanno già sapere i due protagonisti di questa lunga e discussa vicenda giudiziaria, il denaro finirà nel fondo per le vittime dell'ingiustizia, costituito proprio da Zancan e servito anche per pagare i funerali di Hermes Mattielli, il defunto Robivecchi Vicentino, condannato per aver sparato a due nomadi entrati nella sua proprietà e a risarcirli con 135.000 euro. Intanto nell'udienza fissata all'inizio di maggio, il giudice per indagini preliminari dovrà pronunciarsi sulla richiesta di assoluzione del benzinaio che secondo la Procura avrebbe agito per legittima difesa. E Bassano ricorda il 25 aprile, domani in occasione del 71esimo anniversario della liberazione, Bassano organizza una celebrazione pubblica con inizio alle 8.45. Il corteo guidato dalle massime autorità cittadine partirà dalla sede municipale di Via Matteotti, Alle 9 la Santa Messa nella chiesa di San Francesco e a seguire la deposizione di una corona di alloro nell'ara dei caduti in Piazza Garibaldi e alla Lapide dei Martiri, in Viale dei Martiri. Alle 10.15 nella sala del Consiglio del Municipio le celebrazioni si concluderanno con il saluto del Sindaco Riccardo Poletto e la commemorazione ufficiale tenuta dal Vittorio Andolfatto, Presidente dell'Associazione, 26 settembre. Ed ora invece ci occupiamo di una delle aree più suggestive della città, la riva del fiume Brenta. Ci sono infatti importanti novità per i lavori di restauro dell'ex macello. Novità in vista per l'area dell'ex macello. Sì, per l'ex macello abbiamo una buona notizia, anche lì abbiamo approvato una delibera di giunta comunale in cui facciamo un passo importante per proseguire sulla strada dell'accordo. Quello sull'ex macello, lo ricorderete, è un intervento che mira a riqualificare un'area oggi degradata con l'obiettivo di insediare un'attività di stampo culturale in uno dei punti più suggestivi della città. Noi abbiamo sempre dichiarato che le sponde del fiume sono particolarmente importanti e particolarmente nel cuore di questa amministrazione. Abbiamo fatto molti interventi che si focalizzano proprio in queste aree e quindi è perfettamente nelle corde di questo modo di vedere le cose che stiamo promuovendo il più possibile l'intervento sull'ex macello. Difficile invece stabilire i tempi dell'intervento. Credo che i percorsi lunghi e complessi come questo è innegabile il fatto che per una serie di motivi, non ultimo perché siamo sul fiume, perché abbiamo a che fare con un immobile vincolato, sia un percorso molto complesso, però credo appunto che strade così lunghe siano costituite da tanti piccoli passi. Noi possiamo sperare di arrivare in fondo solo nel momento in cui compiamo bene i passi che si devono compiere. Quindi tutti i piccoli segnali in questo senso, come quello di ieri, sono assolutamente necessari e assolutamente benvenuti. Tematiche economiche con il prossimo servizio. Andiamo a Marossica per parlare di una nuova sfida che sta coinvolgendo giovani agricoltori. Agricoltura come rilancio dell'economia del territorio. Siamo a Marossica dove accanto all'ormai consolidata piantagione cerasicola spiccano l'olivicoltura e la coltivazione dei piccoli frutti. Due realtà che stanno facendo registrare numeri importanti. Basti pensare che nel Marossicense 36 ettari sono ad ulivi, 26 a ciliegie, i numeri dicono tutto. Marossica è sempre stata famosa per la ciliegia, ma anche gli ulivi e i piccoli frutti possono dare delle grandi opportunità, soprattutto in questo momento. Significa valorizzare il territorio, significa aprirsi a nuove economie, significa sviluppare quel turismo rurale che molto spesso ci siamo dimenticati. Si torna un po' indietro. Si torna all'agricoltura come davvero elemento principale per l'economia? Si torna un'agricoltura locale che esprime prodotti di qualità che arrivano a chilometro zero sulle nostre tavole, ma soprattutto che stanno coinvolgendo ragazzi giovani. Sono infatti soprattutto i giovani pronti ad affrontare la nuova sfida dei piccoli frutti, per cui la stessa amministrazione comunale ha dato un contributo attivo, eseguendo le analisi del terreno per venire incontro ai nuovi agricoltori. Ad oggi sono sette persone di Marostica e quattro persone tra Pianezze e Molvena, però vedo che sono in continuo aumento, continuano a informarsi perché vedono adesso dopo due anni e mezzo abbiamo la possibilità che le persone vengono nel territorio a visitare i primi impianti che sono stati fatti. È un'attività che l'amministrazione di Marostica ha voluto portare avanti in questi due anni per dare la possibilità di un reddito aggiuntivo ai privati e in questi tempi di economia diciamo non particolarmente felice è sicuramente un'opzione molto importante e anche un reddito aggiuntivo a chi fa dell'agricoltura il lavoro primario. E andiamo ora a Mussolente dove il turismo ha registrato un aumento dell'85% e si punta alla riqualificazione dei sentieri naturali. Sì, c'è stato un aumento del turismo, delle presenze sul territorio del comune di Mussolente pari a un 85% e dico un 85% che per noi è un risultato straordinario. Turismo a Mussolente con il segno più, l'amministrazione punta a riqualificare una serie di sentieri naturalistici per promuovere l'affluenza di visitatori. Un anno, un anno e mezzo che ci lavoriamo, soprattutto l'assessore Fantinato che sta seguendo, sta coordinando un gruppo di volontari insieme con i quartieri per riuscire ad aprire così due sentieri natura. E ringrazio a questo punto anche i proprietari perché insieme anche con loro siamo riusciti veramente a costruire questo importante passo nel rispetto dell'ambiente. Tant'è vero che tra maggio e giugno andremo così ad aprire affinché siano percorribili questi due nuovi sentieri. 20 mila euro il costo dell'intervento di riqualificazione. Questa è una risposta positiva al turismo, apriamo agli altri paesi, al territorio quello che sono le bellezze di Mussolente. E con il prossimo servizio spazio ai giovani premiati per il lavoro svolto in occasione della giornata di primavera del FAI. Un centinaio giovanissimi premiati per la loro attività svolta nell'ambito della giornata di primavera del FAI. Cicceroni per i tanti, tantissimi visitatori del Museo Civico di Bassano aperto a tutti. Un vero gioiello ancora sconosciuto per la maggior parte anche degli stessi bassanesi che il FAI locale ha voluto rendere fruibile coinvolgendo gli studenti. Abbiamo voluto costruire questo incontro proprio per ringraziarli, per fare vedere proprio materialmente la nostra soddisfazione, il nostro affetto che abbiamo vestito questi ragazzi che impegnati moltissimo perché secondo quadrimestre nelle scuole superiori però si sono dati anime corpo per questa giornata. E' inutile ritornare sul discorso dell'esito più che positivo dato non solo dalle presenze di quel giorno ma anche dai giorni dopo. Cioè la richiesta della gente, innanzitutto i bassanesi felicissimi di aver visto il museo gratuitamente. Questa è stata una sorpresa e anche una gioia e io spero che questo in futuro si possa anche ripetere. Mandiamo un messaggio all'amministrazione. E non è la prima volta che la referente del FAI bassanese, Maria Rosa Zanotto, lancia messaggi forti all'amministrazione comunale per rilanciare il Museo Civico, soprattutto in queste settimane di attesa della nomina del nuovo direttore. Io spero che con questa giornata di avere smosso un mondo nuovo, di avere creato un piccolo futuro per questo bellissimo museo che Bassano ha. Ed ora invece andiamo a Treviso per vedere come è andata questa settimana il Banco Solidale di Rete Veneta. Nuovi arrivi al Banco Solidale di Rete Veneta. Il carico è arrivato da Verona direttamente dal centro di distribuzione della solidarietà. Oltre mille le borse della spesa preparate e distribuite ad altrettante famiglie. E questa settimana, ancora più ricche perché mercoledì prossimo, giorno di San Liberale, il Banco con il Sant'Artemio resterà chiuso per la festa del patrono. Intanto, oltre ai prodotti alimentari, al Banco sono arrivati anche altri capi di abbigliamento. Ringrazio tanto Alessandro della ditta GAP di Treviso, che ieri ci ha portato questi meravigliosi pantaloni che per noi, guardate che belli, sono molto importanti perché poi sono nuovi, nuovi, nuovi. Ma io volevo ringraziare anche tutte le persone che ieri sono venute, che hanno portato cibo, che hanno portato indumenti, che hanno portato prodotti per i bambini, per la casa. Perciò questa grande famiglia di Rete Veneta aumenta sempre di più e la solidarietà per noi è una cosa importante perché abbiamo solo loro e la nostra famiglia. Grazie. Una generosità che a volte arriva da tutti, dal semplice cittadino, come ad esempio dal presidente delle case di riposo di Treviso. Per noi queste visite sono molto importanti perché fanno sentire la vicinanza alle persone in difficoltà. Perciò ringrazio il presidente che ci porta di tutto e di più, anzi ringrazio anche sua moglie. Grazie a voi, ma devo dire che per noi è un onore, un piacere fare qualcosa per questa meravigliosa organizzazione che hai messo in moto, Mirella. Credo che veramente sia applauso per la nostra società, per il nostro territorio, per la nostra città, quello che stai facendo e credo che questa sensibilità vada trasmessa a tutti i livelli. Poi sai, come in tutte le cose c'è che più sensibile è meno sensibile, però devo dire che è un'operazione che dà lustro alla nostra città e che dà segno di riconoscenza che il volontariato e le opere di bene in Italia siamo i leader assoluti nel mondo. Noi nel volontariato e per fare del bene siamo leader assoluti. è una delle poche medaglie che possiamo prenderci al petto. Brava e complimenti. Grazie Presidente. Siamo a Cittadella dove il Comune ha stanziato 30.000 euro per migliorare la sicurezza e la qualità di vita dei cittadini. Cultura della sicurezza. Si chiama così il nuovo progetto della Polizia Locale di Cittadella approvato dalla Giunta Comunale con uno stanziamento di 30.000 euro. Obiettivo del progetto è potenziare l'attività di controllo, prevenzione e intervento in vari ambiti e più specificatamente quelli che riguardano il benessere dei cittadini nei luoghi di residenza. Interessa sia il centro storico che le frazioni e punta ai riflettori sui fenomeni di degrado urbano. In particolare sono previste azioni di promozione e accrescimento della coscienza civile e del senso del vivere in comunità, soprattutto da parte delle giovani generazioni. Il progetto infatti prevede azioni mirate al contrasto del fenomeno dei writers che deturpano il patrimonio pubblico con scritte e disegni, ma anche la vigilanza dei parchi pubblici e delle aree verdi per far rispettare le norme igienico-sanitarie che riguardano l'imbrattamento del suolo pubblico e più in generale di tutti i comportamenti incivili. In centro storico dunque sarà prevista la presenza di un agente in uniforme a disposizione dei cittadini che desiderino segnalare illeciti o fatti atti a turbare l'ordine e la quiete pubblica. Il nostro telegiornale è giunto al tabine, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona domenica. Arrivederci.